È una storia che fa riflettere ma anche indignare quella del docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Ateneo Aquilano, Francesco Barone, che tante volte mette da parte il suo titolo per mettersi a servizio degli altri in altri paesi. Con l'associazione Help Senza Confini Hollus, di cui è presidente, ha già all'attivo più di 50 missioni umanitarie in Africa. A lui il Premio Nobel per la Pace 2018, Dennis Muked, ha affidato un documento affinché anche in Italia si è conosciuta la drammatica situazione che oggi vive il Congo. Barone ha conosciuto il medico africano nell'ospedale di Bukavu, il suo paese, il Pansi, dove Muege ha curato più di 50.000 donne stuprate. È importante far conoscere quella realtà e Barone assicura che non si fermerà, arriverà anche alla comunità europea. Io ho incontrato Dennis Muege, il Premio Nobel per la Pace 2018 all'ospedale Pansi, che è un ospedale di Bukavu, questa città della Repubblica Democratica del Congo. È stata una conversazione sicuramente molto cordiale, siamo stati chiaramente, c'è stata una reciproca simpatia e una reciproca stima. Dennis Muege mi ha parlato della condizione in cui vive la popolazione della Repubblica Democratica del Congo e al termine di questa conversazione mi ha lasciato questo documento pregandomi di diffonderlo in Italia e in Europa affinché si conoscesse la realtà del Congo. Come è noto, Dennis Muege è un ginecologo. Nel corso degli ultimi vent'anni ha operato, ha curato migliaia di donne, circa 50.000 donne che sono state vittime di violenze e di stupri nel paese africano. Tra le tante attività che noi svolgiamo in Africa e in specifico nella Repubblica Democratica del Congo ci occupiamo di questo dramma, dei bambini ospedalizzati. Qui si tratta di bambini che appunto vengono ricoverati in alcuni ospedali della città, io mi riferisco a Goma in particolar modo, e una volta guariti non possono uscire se non c'è qualcuno che provvede alle spese sanitarie. Qui stiamo parlando di famiglie poverissime, noi siamo riusciti a liberarne tantissimi, soprattutto bambini di età compresa fra un anno e sei anni, ma comunque abbiamo agito anche per la liberazione, tra virgolette, anche degli adulti. La situazione è una situazione assolutamente disperata, mette in evidenza le disparità di questo mondo in cui pochi hanno tanto e tanti non hanno nulla, e questa secondo me è una situazione assolutamente intollerabile. Assistere a condizioni di povertà così evidente mette in evidenza la responsabilità di tantissime persone che sono deputate alla responsabilità ad agire affinché si possano risolvere questi problemi, invece tacciono e restano in silenzio rispetto a questo dramma che ormai è un dramma mondiale.